La Polizia di Stato ha chiuso all'Aquila una casa di prostituzione denunciando la proprietaria. Dopo una lunga e laboriosa attività investigativa, gli agenti della squadra mobile hanno denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una donna aquilana, B.A., proprietaria di un appartamento ubicato all'Aquila in zona Piazza d'Armi. Secondo quanto accertato dalle indagini dei poliziotti, coordinati dal dirigente Maurilio Grasso, la donna favoriva e sfruttava la prostituzione di numerose persone di nazionalità straniera, sia donne che transessuali, di nazionalità brasiliana, colombiana e venezuelana, che si avvicendavano all'interno del predetto appartamento concesso in locazione. Dall'attività investigativa è emerso infatti che l'abitazione, ora sottoposta al sequestro su disposizione del giudice delle indagini preliminari Guendalina Buccella, come da richiesta del pubblico ministero Roberta Tavoglio, veniva ceduta sistematicamente in affitto per brevi periodi, in maniera regolare, a giovani donne e trans di nazionalità straniera. Nel corso delle indagini, cominciate nel 2015, sono stati effettuati numerosi appostamenti, sono state raccolte testimonianze di clienti, cittadini e prostitute, acquisite immagini e annunci su internet, su siti del settore. Dalle ricostruzioni investigative si è potuto accertare che l'attività criminosa è stata svolta all'Aquila dal 2014 a oggi e che in questo lasso di tempo, ma anche negli otto anni precedenti, la proprietaria cedeva l'appartamento a giornate o settimanalmente e chiedeva, a titolo di canone, somme in contanti variabili da 250 euro fino a 720 euro mensili, tutto compreso luce, acqua e gas. Tutto questo senza sottoscrizione di alcun contratto di specie o talora con contratto riportante a un canone molto inferiore rispetto a quello effettivamente percepito. I possessori protempore dell'immobile esercitavano stabilmente e continuativamente la prostituzione all'interno, dopo aver adescato i clienti online con prestazioni testuali da 50 euro in su. Polemiche sterili, l'etichetta così l'amministratore delegato di strada dei parchi Cesare Ramadori sono quelle dei casellanti che nonostante lo sopero si sono visti entrare in funzione il casello automatico nei giorni scorsi. Il processo di automazione va avanti, la razionalizzazione ci sarà, è accaduto anche in altre autostrade, dichiara l'amministratore delegato. È una polemica che diciamo in questo momento sterile perché noi è vero che stiamo razionalizzando tutti gli svincoli, cosa che hanno già fatto tutte le altre autostrade d'Italia e siamo gli ultimi a fare questa cosa e per noi è estremamente necessaria perché visti i volumi di traffico che ha l'autostrada i sistemi automatici sono sicuramente efficaci e è la soluzione del futuro. La figura dell'esattore a mio parere è una figura che tenderà a scomparire e andrà riqualificata. Il nostro obiettivo però specifica è potenziare il servizio viabilità per cui i dipendenti verranno reimpiegati lì e altrove. Nessuno vuole ovviamente far perdere i posti di lavoro dice. Tenga conto che noi dobbiamo potenziare il servizio viabilità che sono gli ausiliari per evitare quel traffico. Abbiamo internalizzato una serie di attività spostando la gente dalle stazioni su queste altre attività. Noi cerchiamo di mantenere il personale per quello che abbiamo oggi in forza. E sull'aumento dei pedaggi di cui si parla ormai ogni anno lui risponde così. Si aumenta il pedaggio perché noi facciamo investimenti. Aumenta tutti gli anni ma perché facciamo investimenti tutti gli anni. Io ho spiegato in varie occasioni, non ultimo il 31 dicembre, il 30 dicembre dell'anno scorso come funziona l'incremento tariffario. È dato da una formula matematica dove c'è dentro per grossa parte gli investimenti che vengono realizzati. Voluto dall'amministrazione comunale per arginare i continui abbandoni di rifiuti servirà solo i cittadini residenti nel comune dell'Aquila qualora abbiano la necessità di smaltire i rifiuti di dimensioni maggiori. È stato inaugurato il centro raccolta di rifiuti del comune dell'Aquila, posizionato nella zona industriale di Bazzano e gestito dall'SM. Possono accedere al servizio anche le utenze non domestiche con apposita convenzione e con quantitativi specifici rifiuto per rifiuto. Gli Aquilanni potranno portare nel centro raccolta ingombranti, RAE, imballaggi di carta, cartone, vetro, plastica, legno, alluminio, ferro, sfaci e potature, batterie, accumulatore e quant'altro, il tutto contenuto in un elenco consultabile sul sito. L'apertura al pubblico è da lunedì 13 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Per il primo periodo di tre mesi si accederà al centro raccolta solo tramite prenotazione al numero verde ASM 800 20 88 20. Uno dei problemi dell'Aquila è proprio l'abbandono dei rifiuti, l'abbiamo evidenziato ultimamente e soprattutto credo anche a cagione della ricostruzione ci sono diversi casi di abbandono di rifiuto spesso ingombranti. Si spera che adesso il cittadino avendo la possibilità di venire a conferire direttamente qui invece di andare a abbandonare il rifiuto lo venga a conferire correttamente ai sensi di legge. Non solo va a sopperire i problemi ma speriamo che vada ad educare i cittadini, soprattutto quei cittadini che almeno in questo periodo stanno tempestando la nostra città di rifiuti e soprattutto di rifiuti ingombranti, ma non solo cittadini privati ma anche ditte e quant'altro. Adesso questo centro di raccolta servirà per dare la possibilità ai cittadini di poter portare direttamente qui il materiale, ovviamente non tutti insieme, ci saranno delle regole, ci sarà un numero verde che sarà contattabile, prenotando appunto lo spazio verrà conferito il materiale. L'amministrazione in questo senso sta facendo anche un altro tipo di intervento che è l'intervento attraverso le ordinanze del sindaco di poter reprimere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Quindi ci saranno delle multe salate per coloro che non approfitteranno di questa opportunità ma riterranno ancora di continuare a lasciare rifiuti ovunque, appunto ci saranno le multe e ci sarà un preannuncio anche delle zone e delle aree video sorvegliate. Il 66% dei laureati presso l'Ateneo Federiciano ad un anno dal conseguimento del titolo sono già occupati contro una media abruzzese del 56%. Il 58% degli occupati contro una media regionale del 52% può contare sul lavoro stabile, ossia con contratto a tempo indeterminato o con un'attività autonoma, effettiva con un guadagno medio di 1.145 euro al mese, anche in questo caso superiore alla media abruzzese che è di 1.061 euro. Sono i dati del diciottesimo rapporto Alma-Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani che nel divario tra nord e sud, di cui anche il sistema universitario risente, pone l'Ateneo Aquilano in testa a quelli del centro-sud quanto ha possibilità di trovare lavoro nei primi tre anni. Per i neolaureati all'Università dell'Aquila c'è l'86,1% di possibilità di trovare lavoro nei primi tre anni, ha spiegato la Inverardi, affiancata dal prorettore vicario Carlo Masciocchi, dalla prorettrice delegata agli affari internazionali Anna Tozzi e dal referente di Ateneo per l'orientamento il tutorato e il placement Giulio Antonini. Per quelli dell'Università Chieti-Pescara le possibilità sono dell'81% e per quelli di Teramo il 79,5%. Ma l'Ateneo Aquilano fa meglio anche di altre università del centro-Italia come Siena, Perugia, Pisa, Roma 3 e Roma la Sapienza. Noi eravamo consapevoli del nostro dato, in realtà non eravamo tanto consapevoli dei dati degli altri, di quanto fosse un risultato buono quello dei nostri laureati. È un elemento positivo che ci dà forza la determinazione di continuare a fare sempre meglio per la preparazione dei nostri studenti. Noi! 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 Grazie a tutti.